Educazione ambientale e sviluppo sostenibile, questi temi su cui le scuole potranno sviluppare dei progetti che potrebbero ricevere un finanziamento attraverso i fondi residui del capitolo di bilancio regionale destinati alla sperimentazione didattica. L'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione, si legge nella circolare, intende promuovere iniziative sui temi dell'educazione ambientale e sviluppo sostenibile, con particolare riguardo allo sviluppo di competenze sociali e civiche per comprendere i concetti di biodiversità, essere capaci di mettere in pratica comportamenti virtuosi, comprendendo metodi e metodologie per migliorare gli stili di vita, modificare i comportamenti alimentari degli studenti verso sostenibili modelli ecologici, economici e sociali e ancora si legge a crescere il senso di comunità e il rispetto del bene pubblico, adottare condotte attente al risparmio energetico, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale. E così le scuole, anche in partenariato con enti e associazioni, potranno presentare delle proposte progettuali e nel caso in cui, dopo le opportune valutazioni, queste ultime verranno ritenute ammissibili, le stesse potranno accedere al contributo. Il finanziamento verrà erogato tramite un primo acconto dell'80% e il successivo saldo del 20% al termine delle attività progettuali, che dovranno comunque concludersi entro il 30 settembre del 2020 e alla presentazione di tutta la rendicondazione delle spese sostenute. Il finanziamento verrà erogato tramite un primo acconto dell'80% e il successivo saldo del 20% al termine delle attività progettuali, che dovranno comunque concludersi entro il 30 settembre del 2022 e alla presentazione di tutta la rendicontazione delle spese sostenute. Ogni istituzione scolastica del primo ciclo potrà indicare inoltre una sola proposta progettuale per un importo non superiore a 25.000 euro. Il coinvolgimento del mondo della scuola verso le tematiche ambientali è strategico, afferma l'assessore Lagalla, per modificare in senso virtuosi comportamenti e gli stili di vita. Abbiamo deciso di mettere in campo una prima tranche di risorse per promuovere progetti capaci di far comprendere più piccoli concetti di biodiversità, sostenibilità ambientale, risparmio energetico, di cura e tutela del patrimonio naturale. E infine conclude, il lavoro in rete tra istituzioni scolastiche, realtà pubbliche e private attive sul territorio è fondamentale per accrescere il senso di comunità.